Buongiorno ragazzuoli, buon martedì a tutti quanti voi e insomma buon match day. Oggi gioca la Juventus, gioca contro il Toro e c'è una notizia legata sempre al Toro e alla Juve. Formazioni particolari che potrebbero subire insomma dei cambiamenti, delle piccole modifiche, piccole ma importanti, di sostanza e di contenuto. Ed è di questo che andremo a parlare. Prima di iniziare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, forza e coraggio ragazzi che stasera ci vediamo anche per il post partita. Poi vediamo se nel pomeriggio infilare un altro video, dipende un po' dalle novità che escono. E se c'è del contenuto da fare, non forzo la cosa, non l'ho fatto in questi giorni e non continuerò a farlo. Per cui vediamo un po', se c'è qualcosa di interessante da dire, molto volentieri. Altrimenti direttamente post partita e live reaction, che è un classicone. Quindi mi raccomando, vi invito inoltre a scaricare la PuanFootball, trovate il link in descrizione. La migliore app per rimanere sempre sul pezzo, aggiornati sul calcio. Oltretutto ragazzi, è gratis. Quindi così, trovate il link sotto. Allora, la notizia è questa, io non so come prenderla, mi sorprende e dico wow. Cioè, molto interessante la cosa, mi piacerebbe vedere un po' di sperimentazione, però c'è anche un po' di paura allo stesso tempo. Perché a quanto pare, nelle ultime ore, Enzo Barrencea, giocatore dell'Andre 23, che ha giocato qualche scappolo di partita con la prima squadra, ricordo le amichevoli durante il periodo natalizio, potrebbe giocare titolare al posto di Leandro Paredes. Ora, io vi dico la mia su questo giocatore. È un giocatore che a me piace. Nonostante abbia subito un infortunio grave, si è ripreso, ha la testa, è un ruguaggio, quindi ha una certa garra, probabilmente inserita dentro. È inutile, al di là della guerra a Charrua, che è la stronzata che ha detto Adani. È vero, questi sudamericani e uruguaggi sono tignosi, sono cattivi, sono di grande mentalità. Ed Enzino potrebbe essere uno di questi. Se ha la stofa, perché riprendersi da un infortunio simile è complicato, specie quando sei nel momento di maturazione, che devi fare il salto, devi fare quello switch nei professionisti, ti capita un danno simile. Lui, con la testa, si è ripreso, con le prestazioni sul campo, col duro lavoro e con la fatica. Quindi, complimenti a lui, adesso potrebbe essere addirittura schierato in prima squadra. Titolare, contro il Torino, nel derby della Mole, partita molto delicata. Perché oltretutto non bisogna solamente ragionare sul fatto che sia una partita qualunque. È una partita che potrebbe significare, in caso di 15 punti tolti, ancora un secondo posto. È distanza da Atalanta e da squadre che hanno perso un po' di terreno in questa giornata di campionato. Quindi, siccome non ci dobbiamo fasciare da testa anzitempo, noi puntiamo a fare quanti più punti possibili, in vista ovviamente del ricorso al Coni. Poi, se sono rose, fioriranno. Senza rimpianti. Diamo tutto in campo. E vedere Enzo Barrencea così titolare mi sorprende. Però, ripeto, è un giocatore che ha grande visione. Bravissimo nella fase difensiva. Molto bravo. È un giocatore che sa stare in campo e sa fare cose essenziali. Senza troppi ghirigori, senza troppo estetismo. Bada al Sodo, un gran giocatore di concretezza. Di gran concretezza. E potrebbe giocare lì, al posto di, appunto, Paredes. Vi ricordo che Locatelli è squalificato. Quello ha detto anche nel video che ho fatto ieri con Romeo al J-Hotel. E quindi, occhio, perché questa potrebbe essere la grande soluzione. Questa, però, di conseguenza, ragazzi, potrebbe essere anche un evento... Io parlo dal condizionale, perché con Allegri io non ci credo al fatto che non schieri Paredes che, al di là delle prestazioni di merda che è inanellato da inizio anno, c'è da dire una cosa importante. Paredes è un giocatore che ha una certa qualità, che ha un certo trascorso. Per cui, la fama lo precede. E penso che anche, dal punto di vista delle garanzie e delle assicurazioni che può dare all'allenatore, Allegri si fidi magari un po' più di Paredes anziché di Barrencea. Con tutto il rispetto per Barrencea, ma conoscendo Allegri mi sembra una mossa strana. Molto strana. E questa sarebbe un'eventuale bocciatura totale nei confronti di Paredes, sul suo rendimento, su ciò che finora ha dimostrato la Juve. Non parlo di serietà. Non sono lì alla continassa a vedere come il ragazzo si allena, come il ragazzo sta prendendo l'impegno Juve. Non ve lo posso dire se è una questione di serietà. C'è da dire che molti lo sospettano. Io non lo nego, né lo dico con certezza, perché non ho assolutamente fonti in tal senso che mi dicono guarda, sta venendo qua a farsi un anno così, a prendere soldi e ciao, nei grazi. Non lo so. Però ad oggi ho dimostrato questo effettivamente sul campo. Non tanto sul piano dell'atteggiamento, tanto sul piano delle prestazioni. È stato veramente un po' deludente. Iludente, ci si aspettava molto, ma molto, ma molto di più in realtà da Enzo, cioè da Leandro Paredes. E il fatto che la Juventus in questa partita qua, delicata, che si incastra in un momento particolare, magari anche per questioni di lottazioni, Allegri ha deciso di fare giocare Enzo Barrencia. Però mi stupisce che dal primo minuto lo butti giù nella mischia. L'altra preoccupazione che è normale che io abbia, e penso che sia condivisa da anche tanti di voi che mi stanno ascoltando in questo momento, è la seguente. Il fatto che la Juventus manca di struttura e di organizzazione e buttare nella mischia un giocatore giovane potrebbe essere un rischio. O questo ragazzo ha un plus, ha delle qualità importanti sul piano della mentalità, sa stare in campo, si abitua ovunque, in qualsiasi contesto, oppure nel contesto caotico della Juventus di disorganizzazione quasi totale, a parte la parte difensiva, però io parlo proprio a livello di impostazione, di costruzione, di fase offensiva eccetera, in quelle situazioni là, poverino, io ho paura che si trovi un po' a disagio. E questa è la mia più grande paura. Guardate bene, io non sono contro l'utilizzo dei giovani, anzi sono forti, devono giocare, punto e basta. Sono più in forma di chi magari, nel leggerare chi è, gioca a loro, va benissimo, però ai giovani devi dargli un po' di struttura, perché o sono dei fenomeni che riescono anche nell'anarchia ad emergere, a tirare fuori dei valori importanti, altrimenti rischia di metterli veramente in difficoltà. E quindi non voglio che accada questo a Enzo Bar, non c'è perché secondo me ha delle grandi qualità da esprimere, ma in un contesto caotico come la Juventus, vabbè ragazzi, sono un po' preoccupato per questo. Però non mi fascio, ripeto, la testa anzitempo, lo voglio eventualmente vedere in campo e poi ne valuterò ovviamente la prestazione con ovviamente questa scusante. Vada come vada, perché secondo me il ragazzo ha delle qualità importanti e il fatto che anche oggi, già la vigile della partita gira questa voce qua di Barrencea che prende vantaggio su Paredes, la dice lunga sul fatto che questo ragazzo abbia delle qualità importanti. Quindi aspettiamo e vediamo, sono molto molto curioso di vedere se Allegri avrà il coraggio di metterlo a e b come eventualmente la Juventus si interpreterà questa partita. Poi ripeto, uno tignoso, cattivino, mi piace. Un po' di cazzimma che a questa squadra fa solo bene, un po' di fisicità, un po' di cattiveria, un po' di voglia. Sarebbe adesso un po' più di sfrontatezza, caro Enzo, vai e divertiti e dimostra di che pasta sei fatto. Signori, aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti su questo eventuale cambio di formazione. Vi ricordo che l'altro ballottaggio è Quadrado-De Scioglio, però altrimenti la formazione fatta è Scesni. I tre brasilieri difensori centrali, insomma vanno a comprare la difesa, a sinistra Kostic, centrocampo composto da Barrancea-Paredes, Rabiot-Fagioli, a destra Quadrado-De Scioglio, davanti Vlaovic e ovviamente Angel e il Fideo di Maria. Signori, questo è tutto, le ultime ve le ho date da Juventus-Torino, vediamo poi se anche a partita in corso entrerà il buon Pulla-Bill Pogba, potrebbe esserci anche Chiesa, vediamo un po', sono curioso, e sempre fino alla fine. Forza Juve, ci vediamo più tardi belli!